Il primo giorno di un'epoca Il primo giorno di un'epoca PORONDIO! Quando? Domani, sul punto alle sei Il cashier è sparito Stava per portarmi su un centrale E' scappato con i soldi Non mi fare così Io non scherzo mai Lavorare in un ambiente così particolare Quanto ti ha aiutato Nella recitazione? Io sono convinto di una cosa Che comunque Sono abituato a lavorare In condizioni un po' estreme Quando lavoravo come operatore Mi capitava spesso Quindi mi sono capitati molti Molti posti estremi Lavorare col freddo Il freddo che abbiamo trovato noi in Trentino Che era, insomma Stavamo abbondantemente sotto lo zero In realtà aiuta Specialmente, forse non aiuterebbe Se uno dovesse fare una commedia Ma nel caso di un dramma Di un thriller Di un personaggio così Quello che interpretavo io Così malinconico Tirevo questa E sempre più o meno Alcolizzato aiuta Perché il freddo ti da Lavorare con i piedi bagnati E ghiacciati Ti da una sofferenza negli occhi Che poi diventa quella del personaggio Quali le sfumature e i colori del tuo personaggio? Ce n'erano tante Una sorta di cowboy romantico se vogliamo Beh, sì, sì L'abbiamo costruito così Col regista E mi sembrava Sembrava giusto costruire un personaggio In quanto Nonostante cresciuto in quei luoghi Era un personaggio che sognava sempre un altrove E quindi l'abbiamo caratterizzato così Insomma, questo cappello Sembrava un cowboy A posto del cavallo Cioè, un quad E quello Io ho spinto molto Per Per dargli anche Una nota di Alcolismo Che mi sembrava Che lo rendesse più malinconico Quindi Beveva molto E poi aiutava anche a me Perché ogni tanto faceva freddo E ci facevamo un cicchetto Ecco, ho letto in qualche backstage Grappa alle 9 del mattino Immagino che il tuo fegato Non abbia proprio gradito questa cosa Io alle 9 del mattino no Però gli altri Attori Attori Che poi Tanti di loro Sono stati scelti Sul luogo Quindi era gente locale L'abitudine Lì è quella di Insomma, di bere Vinelli la mattina A posto del cappuccino Io lì la mattina Non ci sono arrivato Però la sera Mi gustavo delle Buone grappa L'agenziana Anche perché Ho bisogno di Proprio di Di gonfiarmi Di Di ingrassare Perché Per essere più simile Cercare di Confondermi Con le persone Con le quali lavoravo Che erano appunto Delle persone del luogo Quindi insomma Bevevo molto E mangiavo molta polenta E stinchi E stracotti Attore Regista Scrittore Doppiatore Scrittore insomma Adriano Adriano A quale di queste carriere Non potresti mai rinunciare? Beh Non lo so Io la vedo Come un'unica Un'unica carriera Ho iniziato Anche il mio percorso È un po' diverso Io ho iniziato dietro la macchina presa Poi Sono andato davanti Facendo l'attore Poi nel frattempo Ho fatto il doppiaggio La regia è molto legata Al lavoro che ho fatto prima Da operatore E poi E poi Di conseguenza Quello d'attore Insomma E proprio la regia Fonde i due punti di vista Attore Che è davanti alla macchina E l'operatore Che è dietro Quindi Non so Io la vedo come un unico percorso Quindi Non rinuncio a niente Se non fossi stato Figlio d'arte Avresti scelto comunque Questo percorso? Ma forse no Non credo No Avete tempo fino a domani notte Altrimenti io qui faccio saltare tutto